ed eccoci qua ancora una volta carissimi miei amici alessio il mio tour continua qua tra le valli delle dolomiti nelle zone del trentino con marvin abbiamo fatto molte tappe ovviamente non ci sfugge assolutamente niente è arrivato qui per farvi vedere un fiat 130 in abbandono guardate che cosa mi vado a trovare qua ragazzi guardate questo bellissimo bmw serie 5 3000 targato trento ragazzi guardate tra la vegetazione tra tra il tutto il fascino che ha il suo fascino con tutto l'arredamento guardate ragazzi non posso approfittarmi più di tanto perché lo spazio è un po scomodo ovviamente trovo i ritrovi un po scomodi guardate ragazzi alessio c'è per voi per le auto un bmw serie 5 un 3000 targato trento marvin ti sei fermato per farmi vedere il 130 che ne dici marvin eccolo qua non lascio il filmato al bmw vai 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 andiamo alla grande ok andiamo alla grande marvi eccolo qua vi faccio vedere il dettaglio del muso davanti ed eccolo qua guardate eccolo qua bmw serie 5 3000 guardate ragazzi in abbandono totale qua nel trentino nelle dolomiti è bellissimo anche l'arredamento bene un bel saluto da alessio e vi ho regalato questo bellissimo abbandono qua nelle zone del trentino in compagnia di marvi